POKEMON X WONDERLOCK 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 Ah anche DRAGO ARTIGLI Io vorrei farglilo ricordare DRAGO ARTIGLI Devo controllare un attimo le squame cuore perché il racge oro è vero è una buona mossa però... oddio questi dubbi esistenziali allora vediamo un attimo le squame cuore dove diavolo sono? Dolce spuma, squame cuore vedete ne abbiamo solamente una DRAGO ARTIGLI quindi oh... o ragge oro penso che per il momento Allora Vuoi far ricordare? Sì ok Preferisco far ricordare Drago Artigli ragazzi Per il momento Drago Artigli Tanto avremo sicuramente modo di insegnargli altre mosse Altre mosse ghiaccio a Vaporeon E poi comunque posso sempre tornare indietro Ad utilizzare furto sui cosi Quindi togliamo Rogodenti però Penso proprio di dover diradio a fuoco carico Ok che è un'ottima mossa Però ragazzi il contraccolpo è un'arma a doppio taglio E preferisco veramente rinunciarci Perfetto Perfetto adesso i nostri moveset sono diventati molto molto meglio di prima E non posso assolutamente lamentarmi di questo La squadra oramai è curata Ho messo Begon in squadra perché ci servirà per spaccaroccia E quindi torniamo un attimo lungo il percorso 15 Perché non mi va di lasciare comunque parte di storia indietro E comunque ci sono degli strumenti utili Quindi perché non esplorarli Oh scordavo di dover attivare nuovamente il repellente Un covo di pokemon Che bello Beh effettivamente potrei colpirli tutti con un bel surf Sì mi piace uccidere i covi Dai andiamo di surf Boom Che male che male Una pentakill di Di Vaporeon Ok un po' di punti esperienza Non è eccezionale Però tanto c'è risale di sale di livello E comunque è comunque più divertente di Di fare fuga e basta Allora 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 Dove diavolo è super repellente Attiviamolo perfetto Avevo visto anche un'altra zona Dove utilizzare spaccaroccia nella scorsa parte Quindi controlliamo rapidamente Ok eccola qua Puoi utilizzare spaccaroccia Ho messo Bagon appunto per questo come vi dicevo E allora qua troviamo una proteina Proteina Un altro strumento che si può rivendere a tanto Quindi non fa me male Ecco allora Vuoi utilizzare spaccaroccia Sì voglio utilizzarla Per prendere lo strumento Che si trovava qua sotto Una crescicappa Crescicappa è uno strumento che Aumenta Le evs ricevute Quindi non è assolutamente male Allora Ok Eccoci quindi Nel albergo di roccato Prima l'ho chiamato albero No Albero o albergo No perché si chiama albergo di roccato Però io Tempo fa in Y Non sbagliai dicendo albero E mi porto sempre dietro questo dubbio Vabbè Vabbè Comunque qua c'è praticamente Un tizio che gioca a scrafty Pokémon Veramente figo Non mi dispiacerebbe averlo in squadra Purtroppo però Non si trovano questi cavolo di Di Pokémon lotta decenti Abbiamo preso solo una Riyama E vabbè Allora Attacco rapido Via Dannazione Dannazione Non ce l'ho fatta a mandarlo capo Adesso mi becco il calcio in volo Uffa però Wow Questo scrafty Ci sta facendo sudare Era da tanto Che non Non impiegavamo Tre mosse Va bene Armando salita a livello 58 Toggi che sta al 57 Perfetto Adesso che ci penso Qua sotto possiamo effettuare Anche un'altra cattura Quindi non me lo farò dire due volte Adesso Procederemo Ad aspettare Che il super repellente Finisca E poi effetturemo Una nuova cattura Allora Ribelle che manda in campo Sharpido Forse Forse Giocherò Toggi Sì Gli abbiamo insegnato nuove mosse E comunque Toggi qua mi sembra Molto più avvantaggiato Un po' contro tutti Eh Sì 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 Assolutamente Assolutamente Faremo così Però Per il momento Mi va bene anche Lasciare il Raich Contro questo Pawiniard Che non avendo molta difesa Non è in grado di resistere Al nostro Porderoso fulmine Ok quindi Abbiamo sconfitto Questo Teppista Mi sembra Sia Non so bene E allora Devo controllare un attimo Che il nome del percorso Sia diverso Giusto per Non fare dei fail Assurdi Quindi Usciamo Ok Albergo diroccato Comunque no Albergo diroccato Ok sì È un nuovo Cioè è un nuovo luogo E quindi possiamo Effettuare una nuova Cattura qua Fantastico Eh Troviamo subito Un Pokémon selvatico Vediamo un attimo Di chi si tratta Si tratta di Clefki Ok Un bel Clefki E Va bene Direi di paralizzarlo Con il solito Raich O il nostro starter Che ci aiuta In tutte le catture Sì Perché altrimenti Poi sono costretto A A perdere Troppo troppo tempo Sostituiamo E mandiamo Clefki Va Non voglio Non voglio Perdere Raichu Solamente Per un Per un Clefki Schifoso Allora Nuovamente Megaball Ce la faremo A catturarlo Da nazione Ah Uno Due Tre Ok Ce l'abbiamo fatta Ho sostituito Togix Perché altrimenti Poi Ho sostituito Raichu In Togix Perché altrimenti Raichu Rischiava di andare K-O A causa di Ripicca Ed era veramente L'ultima cosa L'ultima cosa Che volevo Ok Abbiamo catturato Clefki Quindi possiamo Effettuare lo scambio Prodigioso E ovviamente Scambiarlo Oltretutto avevamo già Un Clefki Eccolo qua Lui invece Naturalesta Con burla Vabbè Non è così Importante La natura Tanto lo stiamo Per scambiare E spero vivamente In un Pokémon Lotta Ragazzi In un Pokémon Lotta O In un Acciaio Mi piacerebbe Avere Adesso non so bene Quelle Pokémon Però Sicuramente Lo capirò Appena lo vedrò Se quel Pokémon È un degno Membro Della nostra squadra Oppure no Io sono più Comunque Indirizzato Verso Un nuovo Tipo Lotta Vediamo Speriamo di essere Fortunati Il giocatore Di un giocatore Disponibile Per lo scambio Ok Dal Giappone Una ragazza Giapponese E vabbè Vediamo Vediamo se ci darà Qualcosa di bello Nella scorsa parte Abbiamo ricevuto Un Kangaskhan In questa Un Mawile Un Mawile Un po' Come di tipo Acciaio Però senza Mawile Veramente si fa poco Con Mawile Mi sembra Di non averlo Già Mi sembra Di non averlo Ora controlliamo Anche i suoi dettagli E vabbè Vabbè dai Per forza Ci dobbiamo accontentare Uffa però Allora Effettuiamo quindi Uno scambio prodigioso Vuoi seguire Uno scambio prodigioso Sì Tra virgoletta Voglio seguirlo Perché Allora Decisi per taglio Sì La natura è buona Ha anche Sbigo attacco Però Beh Ad essere un bom Mawile Lo è sicuramente Sarà anche Bridato Purtroppo però Non è il membro Che stavo cercando Anche se Acciaio Folletto Vabbè Acciaio Folletto Lo abbiamo già Come tipo E vabbè Niente Purtroppo Anche questa volta Non metteremo Nessun Pokemon In squadra Eh sì Purtroppo ragazzi È difficile La scelta di Quest'ultimo membro Ringrazio sempre La linea Per questi crash Non so veramente Perché Mi sono scordato Anche di controllare Dallo scorso episodio E vabbè Seviper Arbok Questa Vediamo Ribella Non era un teppista Ma era un ribelle Ok Che manda in campo Seviper Quindi Penso anche Quello di prima Fosso ribelle Ecco Allora Togekiss Contro Seviper Spammi a mettere Lama Che bello Allora Vediamo 1tk Oppure Possiamo Sperare Nel flinch Perché ragazzi Eterna Lama Grazie All'abilità Di Togekiss Ha il 60% Di possibilità Di far Flinciare Di far Tentennare Ed è veramente Una bella cosa Allora Prepotenza Ci diminuisce L'attacco Non è un problema Perché tutte le nostre mosse Sono mosse speciali Anche con giuro Alla fine Va a aumentare L'attacco speciale Quindi Veramente Questa prepotenza È inutile Un altro Eterra Lama State vedendo Ragazzi La potenza Di questa mossa E Togekiss Sala a livello 58 Veramente Senza problemi Rai Cioè Quindi salito A livello 55 Abbiamo sconfitto Selvaggia Ok Perfetto Va benissimo Quindi Vediamo un attimo Qua Una bella lotta In doppio Non so neppure Chi sia L'altro Pokemon Che comunque Prenderà parte A questa lotta In doppio Vediamo un attimo Pangoro E Garbodor Ah Due bei Pokemon Ciccioni Allora 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 Penso Che Combinando Magibrillio A A Rocciotomba Su Garbodor Di riuscire a chiudere In un solo turno Ecco Allora Pangoro Ovviamente Ce lo togliamo di mezzo Garbodor Invece È Il problema Vediamo un attimo Se Saremo fortunati Ecco Bagon è salita A livello 28 Rocciotomba E Perfetto Perfetto Ok I miei calcoli Non erano errati Sono riuscito a A battere tutti e due In un solo turno Quindi questo Non ci dispiace Assolutamente Charizard è salita A livello 52 Anche Charizard Continua a salire Di livello E va benissimo Perfetto Allora Proseguiamo per di qua Abbiamo affrontato Veramente tanti ribelli Vediamo nel cestino Mi piace sempre Vedere nel cestino Non ho mai trovato Rotom Quindi Ok Un Trabish Sbucca fuori dal cestino De rifiuti E vabbè No mi spiace Trabish Volevo Volevo giusto avere La fortuna Di beccare un Rotom Però Comunque Non avrei potuto Catturarlo Ma mi sarebbe piaciuto Vederlo E tu Tutto qui Quello che sai fare Non ci siamo proprio Devi farne di strada Prima di incontrare il capo Allora Come funziona Questa parte Ragazzi Adesso Sinceramente Non mi va Di fare Quello Che serve Per andare dal capo Praticamente Comunque Per esplorare Quest'ultima parte C'è bisogno Di completare Alcune cose Di ottenere Nuove mosse Di ottenere Nuove mosse Con i pattini All'ominopoli E' un procedimento Abbastanza lungo Lo feci nel mio Lexplay Però adesso Veramente Non ho voglia Quindi Io ho detto Non lo attivo Perché tanto Mi mancano Due Due Zollette D'erba E poi Basta Due zollette D'erba Non penso neppure Sia il termine giusto Due zollette Di terra Vabbè E invece E invece Ringrazio la mia fortuna Va benissimo ragazzi Io adesso Tornerò a Frescovilla Nella prossima parte Esporremo la città E faremo tutto quello Che c'è da fare Nella prossima parte Io vi ringrazio Quindi dalla visione Alla prossima